I giardini botanici e i musei di storia naturale svizzeri conservano più di 60 milioni di reperti. Dietro ad ognuno di questi si nasconde una storia unica, a volte così straordinaria che si stenta a crederci. Secondo te la storia seguente è vera o è completamente inventata? Benvenuti nelle collezioni entomologiche del Museo Cantonale di Storia Naturale a Lugano. Le nostre collezioni conservano reperti raccolti principalmente sul nostro territorio, sia da personale del museo sia da naturalisti esterni che una volta terminate le loro ricerche depositano qui, ci consegnano il loro materiale affinché questo sia conservato a lungo termine nelle migliori condizioni possibili. Nelle nostre collezioni c'è materiale di differenti gruppi faunistici come le frafalle, i molluschi, le mosche, i coleotteri. E proprio fra i coleotteri possiamo trovare il curioso curculionide elefante. Perché questo nome? Non certo per le sue dimensioni che sono abbastanza piccole per un insetto, bensì per una lunga proboscide, una sorta di lungo naso, che questo insetto ha e che viene chiamato rostro. A cosa servirà questo rostro? Il rostro è un simbolo di potenza fisica dei maschi, infatti, come succede anche per altri insetti, i maschi di curculioni e di elefanti ingaggiano dei combattimenti a mo' di spadaccino, usando il loro rostro come delle spade. Normalmente il maschio con il rostro più grande e lungo vince il combattimento e potrà così accoppiarsi con la femmina. Ma non solo. Le femmine preferiscono i maschi con un rostro lungo. Questo perché durante l'accoppiamento il maschio sfrega sul dorso e sul collo della femmina il suo rostro, di modo che la femmina solletticata produrrà una miglior e maggior quantità di uova, portando così a miglior fine la riproduzione e il successo della specie. Questa storia sarà vera oppure no? Scopri altre storie incredibili sul sito www.fantasticstories.ch e vieni a trovarci durante la giornata delle collezioni di storia naturale.